Siamo a Doha, in Qatar. Oggi facciamo lavoro sugli ultimi dettagli in vista della finale del mondiale del club, se si terrà domani. Sono attese migliaia di persone, è una grande responsabilità, però sono anche tanti anni che faccio questo lavoro, sono molto tranquillo, le nostre soluzioni sono installate in più di 120 impianti di sportivi. Le persone vengono allo stadio per vedersi la partita, per mettersi un giorno con allegria, ed è giusto che possiamo farlo in totale sicurezza. Noi siamo qui per permettere tutto questo. Grazie. Grazie. Grazie.